Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Questa mattina a Taranto, intorno alle ore 8, due incidenti automobilistici avvenuti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro hanno determinato ulteriori rallentamenti del traffico veicolare. All'altezza della curva che precede l'autovelox recentemente installato sul ponte Punta Penna, una Ford grigia per cause sconosciute ha perso il controllo ed è finita contro la recinzione che delimita la carreggiata, impattando violentemente contro le lamiere. Sul posto è sopraggiunto anche un mezzo del 118, ma fortunatamente non si è reso necessario alcun intervento, il conducente era infatti illeso. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro, ma sul tratto di strada interessato si sono verificati consistenti rallentamenti del traffico. Un secondo incidente è avvenuto a pochi minuti di distanza a Paolo VI, all'altezza del seminario, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Fortunatamente anche in questo caso nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito. Si è svolto questa mattina presso la sede Tarantina dell'Università degli Studi Aldomoro il convegno intitolato 25 aprile, la memoria per il futuro, organizzato dall'Ampi Provinciale Taranto con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo e dello SPI CGL Taranto. Il titolo che noi abbiamo dato è la memoria per il futuro, proprio perché la memoria non deve essere relegata nel passato, ma deve riguardare la vita di tutti quanti noi. Abbiamo rivolto questa giornata soprattutto agli studenti della scuola secondaria superiore, proprio perché per loro il messaggio deve essere chiaro. Loro vivono in un'Italia democratica e antifascista e devono essere consapevoli che questa conquista è stata proprio perché, l'abbiamo avuta proprio perché ci sono stati i nostri partigiani che hanno liberato l'Italia dal terrore fascista e nazista. È la nostra storia, è una data monumentale per il nostro paese e per il nostro popolo. È la prima vera transizione dal periodo nazifascista fino alla libertà tanto voluta e tanto auspicata. È un aspetto che i nostri ragazzi devono avere dentro, dentro la loro anima, nel loro DNA. Spesso dimentichiamo e diamo per scontato quello di cui oggi godiamo, questa libertà, principi di democrazia. Ma quelli sono stati i momenti in cui si è fatta davvero l'Italia, sono i momenti in cui il popolo, anche se le battaglie non finirono in quella data storica, ma in cui ci fu questo appello fortissimo a combattere contro il nazifascismo. E questo non dobbiamo dimenticarlo. E noi come amministrazione siamo molto vicini a quelli che sono i valori dell'Ampi. E su questo dobbiamo continuare a insistere affinché tutti, compresi i miei figli, le nuove generazioni, abbiano la consapevolezza di quanto è importante questa conquista, di quanto è importante partire dalla memoria e partire da questi valori che i nostri nonni, bisnonni, per cui hanno lottato e per cui oggi abbiamo tutto ciò che ci manifesta davanti. Quindi in tutte le volte che noi si fa un'occasione di questo genere, la destra dice sempre che noi, i partigiani in particolare, non vogliono parlare delle foibe, come se fosse una colpa. Il libro dimostra che è esattamente il contrario. Cioè sono dei fatti che raccontati nella loro realtà, raccontano una storia che non è la storia comune che si racconta. Natino Fortunato, l'impegno da candidato sindaco per Crispiano è quanto sarà importante nel suo programma anche puntare sui temi economici perché la cittadina crispianese possa avere nel prossimo futuro anche delle opportunità maggiori rispetto a quelle che sono state coltivate sinora. È forse la ragione stessa per cui io mi sono candidato, perché di fatto rispetto al passato, la Crispiano che ho conosciuto io è praticamente un pallido ricordo. Adesso invece il paese è involuto in maniera molto preoccupante, troppe salacinesche si sono abbassate in questi ultimi anni, 39 negli ultimi 5, da dati riferibili dal SUAP, lo sportello unico dell'attività produttiva e quindi in una fonte ufficiale, e questo è preoccupante. Noi intendiamo, io e la mia lista, perseverare invece nel tentativo opposto, cioè quello di far ripartire l'economia crispianese. Si è svolto nella giornata di ieri presso la Camera di Commercio di Taranto il primo convegno organizzato dall'Associazione Indotto Adi e General Industries dal titolo Pillole per l'impresa in un mondo in evoluzione. Il presidente di AIGI, l'ingegner Fabio Greco, intervistato dal direttore di Cosmopolis, Vincenzo Carriero, ha voluto sottolineare le finalità di questo incontro. Ritengo che sia indispensabile poter fare questo, organizzare questo, ma anche perché il punto centrale di questo convegno è proprio per gli associati. Diversificazione aziendale è alla base di un futuro prospero delle aziende, quindi bisogna diversificare, per diversificare occorre assolutamente punti cardini, tre punti cardini che sono la formazione, la qualità aziendale e la finanza agevolata. Stipa Zambogna, quando ha bisogno, finalmente in pensione. Questo è il titolo dell'ultima commedia dialettale scritta e diretta da Ciro Intermite. È stata presentata con tanta semplicità, ma anche con tanto entusiasmo, con tanta energia, al Teatro Orfeo 1915, davanti a un pubblico che si è fatto trascinare in spontanee e sane risate. Un pubblico che si è divertito come si sono divertiti gli stessi attori. Grande successo quindi per l'intera compagnia teatrale Le Tamor, fondata a 14 anni al sono dall'appassionato Ciro Intermite. Squadre e attori sono tutti del rione Tamburi, Vito Intermite, Anna Di Bello, Giuse Intermite, Michele Balestra, Territrani, Pierpaolo Perrone e Rossesso Ciro, padrone assoluto del palcoscenico. È una compagnia nata nel 2009 e all'epoca un mio grande amico Pino Pittaccio mi diceva e così abbiamo iniziato a fare teatro. Ed è bello portare persone che magari al teatro non ci sono mai stati e invece riescono a venire e riescono a divertirsi con noi. Noi ci veniamo a divertire a teatro ed è puro divertimento. L'attore chiede che sa bene a fare l'attore come fa nel bambassire, li facciamo fare agli altri. Noi vogliamo divertirci e far divertire la gente. Allora sono stato molto contento che il pubblico si sia divertito. Noi quando saliamo sul palco cerchiamo nel nostro piccolo di poter dare sempre qualcosa. Indipendentemente dal ruolo che ognuno di noi ha nella vita quotidiana, io sono una persona seria, anche se stasera non si direbbe. Spero che come ci siamo divertiti noi si siano divertiti anche queste 800 persone che sono venuti a vederci. Dittorio 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 Grazie a tutti.